Torna in campo la Valtur Brindisi per la terza giornata di andata del campionato dia 2, per affrontare in trasferta l'UEB Gesteco Cividale del Friuli. I gialloblu, dopo due giornate, hanno due punti in classifica, frutto della vittoria con Forlini nella prima gara. La Gesteco si presenta ai nastri di partenza di questo campionato come una possibile outsider, allenata dall'esperto Stefano Pillastrini, ormai al suo quarto anno sulla panchina friulana. La società del presidente Davide Mikalic ha mantenuto il gruppo storico di italiani che ha vinto la Serie B, inserendo ogni anno un paio di giocatori. Tre veterani del roster, il Play Rota, dalla stagione 2020-2021 a Cividale, il numero 3 dell'Agnello e l'ala forte Miani. In gialloblu da due anni anche Lucio Redivo, ex Brindisi, guardia con un ottimo trattamento di palla. Quasi 13 punti di media partita lo scorso campionato, uno imprevedibile nelle scelte di tiro. Altro esterno con punti nelle mani è Derek Marks, la scorsa stagione a Rimini con oltre 17 punti di media partita. Gambe esplosive, buon feeling col ferro, bravo a creare dal palleggio nell'uno contro uno. In un team formato da giocatori di categoria, quest'anno si è aggiunto il talento classe 2005 Francesco Ferrari, un'ala in grado di ricoprire almeno tre ruoli. Altro 2005 con numeri interessanti è Marangon, cresciuto tanto la scorsa stagione grazie al minutaggio e alla fiducia di coach Pillastrini. Punto di riferimento della squadra. Sono comunque Redivo e Marks, esterni dalla doppia cifra facile, ma non sono da sottovalutare gli italiani Rota, Mastellari, Berti, Marangon, Dell'Agnello e Ferrari. Squadra interscambiabile che dà la possibilità a coach Pillastrini di mettere in campo quintetti con più soluzioni tattiche, partendo sempre da una difesa molto intensa. In casa New Basket, Brindisi, coach Piero Bucchi, deve ancora fare a meno di De Vico, che non è partito con la squadra. Mentre Radonice e Calzavara sono a disposizione del tecnico, ma solo dopo la seduta di tiro e battutina si deciderà se utilizzare o meno il play. Nel pala gesteco, pala 2 ore 20 e 30, arbitri Stefano De Biase, Alberto Perocco e Fabio Bonotto. Nel pala gesteco, pala 2 ore 20 e 30, arbitri Stefano De Biase, Alberto Perocco e Fabio Bonotto.